Non vedo l'ora, chissà che genere di lotta sarà. Di certo sarà una sfida degna di essere ripresa. Raulet, inizia con fogliame! Allora, azione! Usa beccata! Niente da fare! Ehi, io lo conosco, quel jinglippop! Cosa? Come ha fatto ad arrivare fin qui ad Alola? Attenzione! Non dobbiamo ascoltare la sua canzone o ci addormentiamo! Questa sì che è un'opera d'arte d'avanguardia! Non ditemi che ha disegnato anche sulla mia faccia. Anche sulla mia? Avete visto? Jigli può fare isparmiato soltanto con Alola! Chissà perché. Aspettate, mentre dormivo la telecamera ha continuato a riprendere. Davvero? Vai a vedere! Questo spiega tutto! Diciamo che non si fa così. Non è carino. Ma che modi sono questi? La vedo male! Già, chissà come sarà arrabbiato adesso, Jigli Puff. Questo significa che potrebbe tornare! Non potrebbe tornare già! Jigli Puff! Jigli Puff! No, calmati, Jigli Puff! Fermati! Cicciare! Non è giusto! Spiega! Eh, scusa, Jigli Puff. Jigli Puff! Canteresti di nuovo per noi? Vorremmo tanto sentire la tua canzone. Ti promettiamo di rimanere svegli. Vogliamo un'esibizione con flash e scintille. Ciccani Puff! Ciccani Puff! Ciccani Puff! Motore, azione! Ciccani Puff! 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 Eh? E' sempre peggio! Scarabocchi su altri scarabocchi! Ciccani Puff! Ciccani Puff! Ciccani Puff! Eccomana è di nuovo l'unico con la faccia pulita! Ma perché? Calma, ragazzi! Io svelerò questo mistero! Perché sono il Detective Rotom di Aurora! Eccomana è di nuovo l'unico con il nostro corso! Questo è ciò che è successo! Komala l'ha colpito facendolo arrabbiare! Jigglypuff tornerà per vendicarsi! E noi ci risveglieremo con le facce scarabocchiate! Dobbiamo assolutamente trovare un modo per far andare d'accordo Jigglypuff e Komala! Sì, forse è un'idea! Batteremo il sonno con il sonno! Canzone contro canzone! Elementare, no? E vedrete che quel Jigglypuff canterino riceverà dal nostro amato Komala una sonora... Dottor schalke!